Sono ora in compagnia dello scrittore Alessandro Fusco, benvenuto Alessandro su HTO. Grazie a voi, grazie di avermi invitato qui, sono molto onorato. Allora Alessandro, leggo che ti sei diplomato in grafica multimediale e hai lavorato nel campo del web design, della pubblicità e nel settore commerciale. Adesso mi chiedo, come mai da settori così particolari sei passato a quello della scrittura? Certo, è una domanda che mi rivolgono in tanti, di esperienze ne ho fatte parecchie e probabilmente anche alla ricerca di una strada vera e propria da percorrere che mi rappresentasse un po' tutto quello con cui sono cresciuto, di valori, di esperienze che ho fatto. La grafica sicuramente ha influenzato anche questa dimensione nuova per me, la scrittura, tanto che sono l'autore dei miei libri ma curo molto strettamente anche i rapporti con i grafici che intervengono, che collaborano e ci tengo appunto, essendo poi nel campo del fantastico, a dare spazio a questo genere di dimensioni. Come essere giunti alla scrittura è comunque dovuto al mio piacere per le letture, soprattutto da ragazzino, di miti e leggende e poi tanti altri generi che effettivamente cerco di far confluire in misura diversa all'interno dei miei racconti, delle mie storie. La prima cosa che hai scritto, che cosa riguardava, di che genere si trattava? Ma io vengo da alcune esperienze nel campo della poesia, in particolare sì, poesie diciamo autobiografiche però contemporaneamente ho lavorato alle basi di quella che è la saga con cui sto adesso presentando i miei primi libri e sto anche scrivendo altre cose, quindi in realtà la sesta regola, il primo romanzo della saga del sole di Allure è comunque il primo romanzo per quanto riguarda la narrativa. Allora sì, infatti il primo libro si chiama Il sole di Allure, la sesta regola, di che cosa parla? Dunque può essere definito un fantasy classico per certi aspetti, abbiamo alcune immagini che i grandi autori già del passato del fantasy, del fantastico, a me piace più definirlo, hanno tramandato, di cui hanno narrato, come anche razze non umane quindi un ambiente anche più favolistico se vogliamo e appunto leggendario e mitologico però ci sono diversi aspetti che a me piace trattare, io vengo anche da studi di storia, storia medievale c'è tutta una dimensione di religiosità, di aspetti simbolici e di miti in questo senso che ho voluto trattare il personaggio protagonista, tanto per fare un esempio, non è se vogliamo il classico futuro guerriero o il maghetto di turno ma ha una carriera religiosa, lui si suppone il futuro sommo sacerdote di questa religione solare che ha dietro molti modelli storici come possono essere il sole invictus o alcune religioni antiche Il secondo libro che fa parte appunto sempre di questa saga, che mi dicevi prima, sarà composta da cinque libri si intitola sempre Il Sole di Alur, Il Custode del Tramonto, questo invece che cosa parla? E' questo secondo libro che appunto è uscito adesso ad aprile, quindi lo presentiamo anche oggi qui al Pandino Fantasy ha la caratteristica di assumere connotati un po' più oscuri nel primo c'è questa dimensione favolistico, leggendaria, a cui mi sono richiamato prima parlando un po' delle mie esperienze e delle letture con cui sono cresciuto nel Custode del Tramonto c'è molta più politica e cospirazione una cospirazione sul cui sfondo ci sono le lotte interne di una città, una città-stato se vogliamo con tutte le sue contraddizioni, contraddizioni umane e quindi ancora di più trasmette un messaggio che io credo importante per un fantasy moderno e cioè che sia metafora, possa rappresentare una metafora, un confronto anche con le realtà umane di sempre ecco i problemi del rapporto sociale, il rapporto con la religione che c'è in qualunque società, civiltà umana di questo mondo o di qualunque altro mondo possibile Quindi una commissione di reale e di fantastico? Certo, esattamente questo è il mio punto di ricerca principale Quali scrittori ti hanno ispirato? Dunque io come fantasy, restando nel campo del genere per ragazzi vengo dalle letture più classiche che altro come Tolkien mi ha colpito sempre tanto in passato David Eddings che è un autore che secondo me ha dato molto spazio proprio alla dimensione umana, psicologica dei personaggi più che, ma non solo, in effetti comunque alle gesta eroiche dei personaggi in realtà leggo un po' di tutto, soprattutto da quando si dice di poter fare carriera nel senso di fare questo, tra virgolette, mestiere perché è importante fare un confronto, secondo me, con qualunque genere di stile con i grandi autori, tutti quelli che sono i generi di successo e non e quindi in questo momento posso dirti di aver letto veramente un po' di tutto vado da Baricco, piuttosto che Martin per quanto riguarda il fantasy moderno, eccetera sarebbe davvero lunga la lista un autore del passato che mi ha colpito molto e che contribuisce forse tra gli altri generi a dare un tono più sull'horror Lovecraft è sicuramente l'autore americano e i suoi miti di Cthulhu che hanno influenzato alcuni aspetti del mio mondo Quali libro stai leggendo attualmente? In questo momento sto leggendo Il Principe della Nebbia che devo finire di Zafon che è in realtà il suo primissimo romanzo, conosciuto da pochi ancora perché lui ha avuto successo poi con storie più adulte che conosciamo, insomma, best seller con cui è conosciuto già in Italia da anni Naturalmente, insomma, non sei più un esordiente perché hai già scritto due libri e appunto avendo in mente di scrivere, insomma, di formare una saga di cinque libri quindi stai già scrivendo, immagino, il terzo libro Cosa ne pensi degli scrittori o di coloro che si stanno adesso cimentando magari nella scrittura? Secondo te quali sono le caratteristiche che deve avere un vero scrittore? Nel senso, mi spiego meglio, oggi tutti scrivono, tanti scrivono ma non tutti riescono a pubblicare quindi secondo te per essere definito uno scrittore quali caratteristiche bisogna avere? Sì, è una domanda difficile, nel senso difficile alla realtà della scrittura soprattutto a livello dell'esordiente e anche dell'emergente quindi anche al mio livello mi rendo conto le esperienze sono tante, quelle che uno dovrebbe fare sicuramente io consiglio sempre di affrontare un corso di scrittura, scrittura creativa ce ne possono essere di vario genere anche su internet, in videoconferenza quindi anche comodi da casa si deve a prescindere da questo, anche da manuali, da una manualistica dedicata cercare di apprendere alcune tecniche proprio perché se c'è un modo per cui ci si deve poi distinguere su tanto che viene scritto, tanto che viene pubblicato ormai anche senza più editore su internet gratuitamente o per pochi soldi proprio è la qualità della scrittura, non è più tanto la storia che deve restare ovviamente una ricerca di elementi originali fare un confronto con storie precedenti ma con trame diciamo così ricostruite con originalità ma anche un confronto con delle tecniche di scrittura che abbiano comunque uno sguardo verso quelli che sono gli stili anche diciamo di moda ma che in realtà rappresentano proprio l'interesse del pubblico oggi ad esempio soprattutto per i personaggi e le loro trame e dall'altro punto di vista però uno stile che poi diventi personale perché anche fare letture di un certo tipo in modo univoco secondo me rischia di creare ancora dei cloni che siano meno sponsorizzati da una casa editrice ecco questo è importante tre aggettivi per descrivere i tuoi libri per definire la saga per lo meno di Terion e la saga del sole di Alur beh possiamo dire misteriosa e possiamo dire in un certo senso leggendaria e mistica sicuramente invece un aggettivo per descrivere Alessandro Fusco? ma una volta ti avrei detto incostante poi avendo deciso di portare a termine almeno una saga di libri questo potrebbe essere bypassato e in questo momento mi verrebbe da dire accorto Alessandro nei tuoi libri ci sono delle illustrazioni di chi sono queste illustrazioni e se ce ne puoi far vedere qualcuna? sì ne ho portato qualcuna per l'occasione del Pandino Fantasy è un mio collaboratore ormai amico stretto che considero una persona molto valida professionalmente anche come insomma amico sono originariamente delle matite abbiamo deciso di non illustrare quasi esclusivamente insomma il discorso dei personaggi protagonisti vorrei lasciare ai lettori più che altro l'immaginazione di immaginare questi personaggi ma dei momenti e delle scene un po' particolari e momenti cruciali della storia l'autore si chiama in arte Alexander Edera è di Verona lui è un ritrattista è un tatuatore quindi si destreggia con tecniche classiche soprattutto per quanto lavori anche a livello digitale e abbia anche lui un suo seguito anche in altri campi multimediali cosa stai scrivendo invece ora? adesso certamente devo portare a termine la saga sto portando a termine il terzo libro che si chiamerà Il risveglio dei lupi però in generale sto scrivendo anche altri libri sono al lavoro su un manoscritto che ho presentato al concorso La Giara qualche edizione fa per la RAI non è passato alla prima selezione ma vorrei rimetterci mano volentieri perché secondo me ha un bel soggetto parla di una ragazza che vede il mondo in bianco e nero per un problema congenito della vista un problema reale, esistente la quale si può dire ha un incontro del destino con un ragazzo che anche egli vede il mondo in bianco e nero però da un punto di vista filosofico perché è chiuso in se stesso per tutta una serie di esperienze difficili nel suo passato e poi per concludere sono comunque già edito con alcuni primi racconti di vario genere con trame diverse, personaggi completamente diversi e anche stili proprio per sperimentare e per avvicinarmi come ti dicevo prima un po' a generi diversi di narrativa e magari anche per trovare poi alla fine il tuo stile quindi il tuo genere preferito Sì, in effetti ci vuole anche questo nell'esperienza degli emergenti l'importante è non fermarsi sperimentare e provare ogni strada Alessandro, per tutti i nostri amici quindi di HTO che volessero continuare a seguire tutto ciò che tu scrivi insomma tutte le opere che stai pubblicando e volessero avere maggiori informazioni sui libri che hai pubblicato come possono fare per contattarti? Sì, è facile grazie a internet ormai sicuramente abbiamo, io e i miei collaboratori, un sito piuttosto visitato e credo abbastanza valido l'indirizzo è www.specchionero.net e altrimenti sono chiaramente rintracciabile su Facebook cercando semplicemente Alessandro Fusco, autore Benissimo, allora l'invito mio e di HTO è quello di leggere questi splendidi libri di Alessandro Fusco quindi Il Sole di Allur, La Sesta Regola che è il primo libro che fa parte della saga mentre il secondo è sempre Il Sole di Allur Il Custode del Tramonto per il Ciliegio Edizioni grazie Alessandro di essere stato qui con noi grazie a voi per l'esperienza e speriamo presto di risentirci e vederci ci rivedremo sicuramente per il terzo libro della saga molto gentili buonasera grazie a tutti